Ciao! Ascoltiamo una storia in italiano. Matteo è un insegnante. Insegna matematica all'università. Ogni giorno prende la metropolitana per andare a lavoro. E martedì mattina. Sono le sette di mattina. Come sempre, Matteo esce di casa per andare a lavoro. Matteo ha la barba e gli occhiali. Oggi indossa un cappotto marrone. Ha una borsa nera e calza un paio di scarpe nere. Oggi è una giornata speciale, ma Matteo non lo sa. Aspetta la metro come al solito, ma... Per terra vede alcune fotografie. Di chi sono queste fotografie? Pensa. Il professore raccoglie le fotografie da terra. Nella prima fotografia ci sono due persone. C'è una bambina con un vestito bianco, ha i capelli lunghi e lisci. C'è un uomo con una camicia grigia e con i capelli corti e brizzolati. La seconda foto è in bianco e nero. Nella foto, due ragazze ballano. Due ragazze con i capelli lunghi ballano. Una ragazza ha i capelli chiari, l'altra ha i capelli scuri. Matteo guarda un'altra foto. Nella foto c'è una coppia. Un uomo e una donna con i capelli bianchi sorridono. Lei ha un completo azzurro. Lui ha un maglione scuro. In mano tengono bicchieri di champagne. Festeggiano qualcosa. In un'altra foto c'è un uomo. Un uomo con i capelli scuri e gli occhiali. Indossa un gilet, una cravatta e una camicia. Davanti a lui c'è una scacchiera. L'uomo con gli occhiali gioca a scacchi. In un'altra foto ci sono due persone. Un ragazzo e una ragazza. Il ragazzo ha un bel cappello. La ragazza ha i capelli raccolti. Il ragazzo e la ragazza si abbracciano. Nel divano c'è una chitarra. Matteo guarda un'altra foto. C'è una ragazza con una tazza in mano. La ragazza ha i capelli raccolti e un vestito a fiori. Ha un viso familiare. Chi è? Pensa Matteo. Poi esclama Ma certo! È Silvia Rossi! Una mia studentessa! La metro arriva. Matteo mette le foto nella borsa. Poi sale sulla metro e si siede. Sulla metro c'è Silvia Rossi la studentessa. Il professore si avvicina alla ragazza e dice Salve signorina Rossi! Queste foto sono sue, vero? Erano per terra alla fermata della metro. La ragazza guarda le foto e dice Professore, la ringrazio! In realtà Queste foto non sono mie Il professore è confuso Ma come? In questa foto Lei ha un vestito e beve da una tazza Dice La ragazza risponde Non sono io Ma so chi è questa ragazza Matteo entra all'università e fa lezione Dopo la lezione La studentessa incontra il professore Dice Salve professore Ora vado a restituire le foto alla proprietaria Se vuole Può venire con me Il professore è curioso D'accordo Dice Matteo e Silvia vanno davanti a una casa Silvia bussa alla porta Una donna anziana apre la porta Ciao Silvia Dice Bentornata Silvia risponde Ciao non Questo è il mio professore di matematica Molto piacere Sono Dina Girolomoni Dice la donna Prego Entrate Il piacere è mio Sono Matteo Meloni Dice il professore La signora Dina Offre un tè al professore Poi Guardano le foto Tutti insieme Queste sono le mie foto Grazie mille Dice la signora Dina In questa foto Io e mio marito Festeggiamo il nostro anniversario Siamo sposati da 50 anni L'uomo con la barba e il maglione E mio marito In questa foto siamo giovani L'uomo con il cappello E mio marito Mio marito è un chitarrista C'è una chitarra Sullo sfondo Eravamo fidanzati E la ragazza con il vestito E i capelli raccolti Sono io Io e mia nipote Siamo identiche L'uomo con gli occhiali E la cravatta E mio figlio Il padre di Silvia E un ottimo giocatore Di scacchi E queste due ragazze Con il vestito La ragazza con i capelli chiari E mia sorella La ragazza con i capelli scuri Sono io Mia sorella Ha un sorriso Meraviglioso Ma questa E la foto più bella L'uomo davanti al pianoforte E mio marito E la bambina Con i capelli lisci e lunghi E Silvia La sua studentessa La mia nipotina Ti è piaciuta la storia? Lascia un commento Lascia un mi piace E iscriviti al canale La mia nipotina